Musica Eccoci alla fine della serata di presentazione del libro Alba di Sogni, Poesie Corsare e Maria Pia Cappello, siamo amici quindi ci diamo del tu Siamo amici, colleghi Ha praticamente fatto un discorso lanciando un'analisi critica che è basata su una lettura della poesia che apre uno scenario che lei definisce la strategia del coraggio, che cos'è? Io ho fatto uno studio sul tuo libro, non unicamente sulla poesia incontro e oggi tu sei diventato il capostipide di un nuovo filone poetico che io ho denominato la strategia del coraggio Pier Paolo, noi spesso abbiamo parlato della società abbiamo parlato dei problemi abbiamo parlato delle illusioni delle amarezze io ti ho sempre detto io non ho il tuo coraggio ti ricordi? io non ho il tuo coraggio ti stimo perché tu hai il coraggio hai ancora il coraggio di sognare un mondo migliore un'alba più luminosa più poetica più bella nella poesia c'è scritto che dovremmo voltare pagina ma senza le guerre senza le guerre senza la violenza tu che cosa ne pensi di questo nuovo filone poetico la strategia del coraggio che cosa ne pensi Pier Paolo? sono pienamente d'accordo infatti il tuo intervento secondo me ha centrato proprio il senso e il significato di questa metafora dei corsari è proprio quello la strategia del coraggio il coraggio di prendere la vita nei suoi lati migliori come hai detto tu l'alba è una rinascita all'arrivo di una nuova luce quindi la possibilità di un futuro migliore del resto noi questo discorso sulla pace e sulla guerra l'abbiamo sempre fatto anche tu in altri libri cioè riuscire a dare forza al dialogo significa intendersi comprendersi ascoltare l'altro incontrarsi e capirsi ma capirsi non solo a vicenda anche capirsi cioè capire se stessi attraverso l'altro e quindi la strategia del coraggio significa avere il coraggio secondo me di liberarsi dalle catene di chi ci opprime e ci obbliga magari a vivere una vita fatta di conflitti di continui scontri senza senso di violenze che non hanno ragione di esistere se non per il predominio per il potere fino a se stesso per il potere per il potere che sono tutti elementi di superbia di arroganza di prepotenza che non ci portano da nessuna parte se non a sfilacciare tutto quanto il tessuto sociale e allora ci vuole coraggio affrontare il mare aperto ci vuole coraggio da corsari affrontare queste incertezze e ci vuole una strategia per portare avanti questo coraggio quindi la tua definizione è perfetta io non sarei stato in grado di darla così bella come hai fatto tu Pierpaolo ti ringrazio ti ringrazio e ti auguro veramente un'alba l'alba che tu sogni l'alba che tu sogni da quando eri piccolo e che continui a sognare nonostante tutto nonostante le sabbie bagnate nonostante i treni persi le delusioni le amarezze e i dolori complimenti complimenti davvero Pierpaolo complimenti al tuo coraggio la tua sensibilità alla poesia che è in te grazie grazie a te grazie a te veramente un'amica cara come Maria Pia restituisce proprio significato a quello che noi abbiamo fatto stasera perché le sue parole penso possano richeggiare non solo dentro di me ma dentro ciascuno degli ascoltatori perché sono universali e parlano a tutti grazie a Liberi.tv grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti